Buongiorno, buonasera, buona mattina a tutti, dipende da quando ci state guardando Noi siamo Adrian Rinks, Sonji e Ivan Fez Questo è il video di illustrazione per spiegare come funzionano gli shoutout, cioè i rigori nell'universo di Halo Ricordiamo che questo è Hardball, lo sport nazionale Il primo shoutout, Adrian Rinks con la palla e il portiere Io farò la quarta linea a lontana Io non vedo il pallone, questo da sottolineare Aspettate No, però peraltro il pallone da... Quale vuole di più? Eh, era un po' la calcio, c'hai più controllo Pronti, partenza 3, 2, 1, parte e il primo rigore Via, è partito Allora, inquadriamo la situazione subito Ci siamo, ci siamo Adrian Rinks, c'è il portiere, il portiere in porta Sì, mi vede il portiere Seguiamo Mi vede il portiere Cosa ucciderti? Prova a pensare Prova a pensare La palla E lo mette E c'è il gol E c'è il gol E c'è il gol E c'è il gol Va da recuperare il pallone Adrian Rinks l'ha messa Ma se la fai? Non è possibile E te sei proprio impedito, eh Dai, è cominciata qua Dove? Eh, boh, è esplosa la mina di riferimento No, che cazzo dici Iniziamo a caso Vediamo la collina Ecco, dai Pronti? Guarda che prende la mina È lì, è lì la mina di riferimento Eh, perché si è rigenerato Guarda, tu guarda che se ci passa su Se ci passa, se ci passa Ma dai! No, 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 cazzo Ma io non ci credo Tanto devi tagliarlo No, no, questo è un montaglio Te lo metto diretto Ok, ci sta Pronti? Via! E sono partiti di shoutout Ricordiamo la Dian Rinks Il gol l'ha segnato Scusate Vediamo qua, Sevez ce la fa Il portiere non esce Rimane in porta Però si posiziona Il cecchino Eh, si è allungato troppo la palla Eh, imparata Vai Ok, partite Oppure poi andavamo Abbiamo allungato la telecamera da lontano Quando siamo in porta Non vedo la palla, non vedo la palla Sì, mi cazzissimo dio Ho perso la palla Eccolo la palla che arriva Non posso dare il cecchino Niente, scherzavo Dai, vieni qua Ragazzi, io sto dentro una collina Guardalo Sì No, palo Si è fermata Bastato Pronti Via Intrusione No, per casino Allora, chi è che ha? Oh, ma cazzo Mi ha storto È Fez È Fez Ha la palla Io non lo vedo Dove è Fez? Ho perso Fez Eccolo Vedo una palla Vedo una palla Guardate lo scontro telecamera Respita Devi dare in porta Sfigato Vai Via Sono partiti Sono partiti Il portiere è dove esci Il portiere è tan porta Non può uscire troppo Ok, vediamo il portiere che ha jetpack Ah, arriva la porta che esci Vai Vediamo, prova il tiro E c'è il gol E' Sulta Mi stai seguendo E c'è il gol Questo è lo shout out decisivo Allora, se segna Adria Rinks ha vinto Se non segna è pari con Io sono Sono Allora, lì ci faranno i problemi di due i normali I problemi di due i normali Non è il shout out I portelli in porta Adria Rinks è pronto a tirare Ok, siamo pronti Partenza Via, via Sono partiti Sono partiti Cosa ci propinerà da cucinare oggi Adria Rinks? Prova una vomitata, non funziona Sì, funziona Lo fa girare Dall'effetto Questa è la figa Buongiorno Prova una volta Guardate, guardate come si avvicina Dopo il passo, dopo il passo Guardate come si avvicina Sì, senta tirare sotto guarda linea Dai, dai, vai, vai Studiato il portiere Questo vai, il tiro è importantissimo Può si ucciderla? Sì Prova un tiro Palo Palo Palantissima Sta andando avanti, eh Eh È sparita È sparita Ma che cazzo È sparita la palla Vabbè, prendiamo quella da Fobal Pronti? Vai Senti, io di Soli Ha migrato È uscita Ha migrato in camera Ok Prova, vedo dove resta All'inizio Scusate, vorrei far osservare una cosa Al campo È quello di Ogni Apenji Uguale Sì, è vero È ragione No, quello di Ogni Apenji Non abbiamo fissi tante colline È una solo una Ok, andate Pronti via Pronti via È la cazzo È la cazzo L'ho presa È la bucata L'ho presa La bucata Come seconda serie Usiamo la palata golf Che ovviamente Io riprenderò dal lato Pronti via Eh, qua è difficile Prendere la porta Oddio È imparata È la centrale Pronti Cuochi Via Fuori 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 Perfetto La palla finisce in acqua Fuori Fuori E con questo si conclude Il piccolo ritaglio di questo sport Hardball Allora Adina Nings Sinchina per voi Soji E Ivan Fez Grazie per la visione E al prossimo video Aiuto Fuori 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 Fuori